E' sempre più fondamentale l'impegno dei volontari della protezione civile e delle amministrazioni locali per aiutare chi è solo e ha bisogno di aiuto per fare la spesa o per i farmaci. L'ospedale di riguarda di Milano, blocco nord. Siamo con la protezione civile che deve ritirare dei farmaci salvavita al reparto primo piano infettivi. Dobbiamo portarli a una persona che ce l'ha richieste. Che tipo di richieste gli stanno arrivando? Qualsiasi tipo di richiesta, da aiuto alimentare, alla richiesta di trasporto di biancheria intima nei reparti degli ospedali. Stiamo cercando, grazie al lavoro del volontariato, di dare delle risposte perché da soli, personalmente, le dico che non andremo da nessuna parte. C'è vietato passeggiare nei parchi, giardini e luoghi pubblici, fermarsi in tutte le aree pubbliche e private. Ogni giorno davanti ai supermercati questa è la situazione, ma ci sono anche tanti anziani che non possono uscire e chiedono alla protezione civile di fare acquisti per loro. Il mezzo 05 è in uscita, stiamo iniziando a consegnare le spese. Una volta fatti gli acquisti, i volontari si mettono in movimento. Buongiorno, la protezione civile. Non sono solo persone anziane, sono persone anche in difficoltà economica. Lasciamo un po' fuori la spesa, per le persone solo è un grande aiuto. Sì, sì. No, veramente c'ho una miccia. C'ho una miccia che le tiene in compagnia. Lei ci crede? Sì. Io parlo con lei.